Oddio! Fuoco! Oh! Tequila russa! Uh! Uh! Questo è whisky! Come funziona? Eh! Non ce la faccio! Lo sale no! Sa di grappa! Questo ci è piaciuto eh! Questo è cognac! Cognac! Cognac? Perché è limone? Molto buono! Sai che è buono l'abbinamento? Mi è piaciuto! Ma è una bella! Sembra tipo cibo per gatti l'odore! Ma è il pesce! Mamma mia! Non si mangia! Fa male secondo me! No sto ancora masticando quello di prima! Eh anch'io! Pesce affumicato è buono! Campei! Mi era molto buona! Il resto un po' meno! È arrivata finalmente la vodka! Mi volete portare con la cipolla di nuovo! Non ti piace? A me questa non ti spiace! Prima vodka poi cibo! Ma sai cosa? Non è al contrario! Non è vero! Abbiamo l'acqua! Acqua santa! Non è acqua! Si! Buona! Sono drammatizzata! Eh ho capito! Vodka! E cipolla! Ci sei! Ma io non la bevo la vodka scusa! Buona comunque questa vodka! Si! Ma quando la metti nel congelatore ne poi la tiri fuori! Comunque questo qui secondo me vince in assoluto! Buono! Siriotka! Buona Siriotka! Come? Ma è commestibile comunque! Non è bambiolata! Dici che questo qui è il melograno? Buono? No! Ogni tanto la mangio sopra la sushi ma sarà quello finto di plastica! Oh buono! Illegale! Ma è dolce! Fantastico direi! Bello! Ma quindi questo era caviale? Buona! E tu fa cagare vero? Ma è più forte di quello che di prima! Cioè Mione rimescete e rimesciate un attimo! Fa cagare sto rum! È un po' forte eh! Un rum di bella! Si sente troppo l'alcol! Beh! E' ancora un goccio allora! Veramente? C'è il miele? Me la fuca! C'è il miele? Sì! Così! Devi andare a lavorare dopo? Sì! Arrivederci e grazie! Buonanotte! Ma poi tra l'altro una roba ma nella steppa russa che i vigneti del cazzo c'hanno! Viva l'alcol! Viva la Russia! A quanto pare! A quanto pare! Mod الأ Buona Prima! Grazie a tutti.